Siete di sopravvivenza diversi anni fa, però perché fondamentalmente la lingua non influisce sui linei, però ho trovato l'edizione italiana e mi piaceva il gioco e l'ho preso Il deserto proibito è un gioco bastardo è veramente duro, è veramente difficile non difficile da imparare, è difficile da vincere, è un gioco cooperativo in cui tutti i giocatori devono sopravvivere e fuggire da un deserto in cui sono precipitati con la loro astronave questa è la loro piccola astronave che è composta da una serie di elementi, una meridiana c'è l'elica c'è il motore di ferro, bello pesante ci sono delle carte per vedere molto semplicemente carte giocatori e delle carte che poi vi spiego invece cosa sono che sono le carte tempesta i giocatori possono interpretare un archeologo un navigatore uno scalatore un esploratore un meteorologo un portatore d'acqua la differenza sono nelle proprie abilità la bellezza di questo gioco è che sostanzialmente racconta una storia abbastanza semplice che è questa poi siete caduti in un deserto con la vostra astronave dovete fuggire cosa succede? succede che preparate la vostra board come sto facendo io ora lasciando una casella vuota al centro perché sarà l'occhio della tempesta e sostanzialmente ci sarà una casella che indica il luogo dello schianto quindi sarà il luogo della partenza queste caselline vengono messe in modo randomatico e quindi i giocatori le scelte da queste pedine bruttine che potevano essere nettamente migliori in pazienza partono dalla casellina di partenza è cooperativo vi dicevo quindi tutte le mosse che voi potete fare le potete concordare col vostro team perché il vostro obiettivo è recuperare i pezzi della vostra astronave che sono sparpagliati non si sa dove ricostruirla e andare a un'altra casellina anch'essa da scoprire che è la rampa di lancio e partire e partire tutto semplice voi direte assolutamente no perché ogni mossa voi avete a disposizione alcune azioni tra le quali diciamo quella principale è quella di girare queste caselle e vedere cosa si trova al di sotto ci possono essere dei tunnel ci possono essere delle tessere che mi dicono di pescare un equipaggiamento equipaggiamenti che ci aiutano a sopravvivere il problema cos'è? che alla fine che ogni turno che ogni turno alla fine di ogni turno giocatore è il turno della tempesta cioè ogni giocatore deve pescare un numero di carte pari al livello della tempesta vedete da 2 a 6 quindi se sarà 2 si pescheranno 2 carte se sarà 3 si pescheranno 3 carte e così via a ogni turno giocatore e il risultato quale sarà? le carte tempesta che peschiamo cambieranno la struttura del gioco quindi sposteranno il centro della tempesta oppure bruceranno sostanzialmente e popoleranno le riserve d'acqua dei viaggiatori dei giocatori che sono di 3-4 unità arrivata a 0 il giocatore muore oppure ancora arriva la tempesta questa carta ciabrutta qui che fa aumentare il livello ulteriormente è una corsa contro il tempo e contro la tempesta cioè ogni volta che peschiamo una carta tempesta e si sposta il centro della tempesta aggiungeremo carte sabbia che potranno anche creare delle pile scandalose per scavare la tessera che potrebbe essere quella che ci serve dovremo scavare tutta la sabbia che ci sta sopra fortunatamente qualche giocatore tipo lo scavatore avrà magari l'abilità di scavarne più di una alla volta e così via sotto a queste carte avremo se siamo fortunati di trovarle degli indizi queste carte indizio sostanzialmente ci danno le coordinate vediamo se io adesso riesco a trovare questa è un'altra carta indizio questa è la rampa di lancio ho trovato casualmente la rampa di lancio gli indizi di dove si trovano i componenti che ci servono per ricostruire la nave ogni componente ha due indizi un indizio che mi dà la coordinata verticale e un indizio che mi dà la coordinata orizzontale all'incrocio di queste coordinate chiaramente si trova l'oggetto che mi serve quindi i giocatori devono raggiungerlo e prenderlo con tutte le meccaniche che vi ho detto fidatevi fidatevi per le prime partite usate partite alla difficoltà più bassa più bassa vi sembrerà facile ma appena la tempesta sale diventa veramente tosta diventa veramente tosta sarà necessario cercare delle oasi che potrebbero essere anche dei miraggi e quindi non contenere nulla dovete trovare queste oasi per rifornirvi d'acqua perché l'acqua è limitatissima dovete cercare di coordinarvi e spartirvi delle zone di ricerca altrimenti non riuscirete a finire il gioco prima della tempesta se la tempesta riesce a piazzare tutta la sabbia ha vinto diciamo le condizioni di vittoria dell'ambiente sono molto superiori a quelle del giocatore e quindi come vi dicevo il gioco è veramente cattivo però ecco è una meccanica che io non ho trovato in quasi nessun altro gioco neanche di quelli cooperativi che ho giocato è veramente bello è divertente ha un predecessore spirituale che era l'isola proibita forbidden island se non sbaglio che diciamo aveva la meccanica invece dell'acqua che saliva il livello dell'acqua che saliva allegava le zone se non ricordo male non ci ho giocato solo visto però questo qui secondo me è molto più molto più molto più bello mi piace molto più come tema come idea di ricostruire l'astronave e riuscire a fuggire è molto carino si trova a prezzi assolutamente contenuti la partita non dura tantissimo perché purtroppo la tempesta vi schiaccerà in 05 però è veramente bello da giocare vi dà un sacco di soddisfazione qualora doveste riuscire a farcela e quindi vi fa assolutamente venire voglia di giocarci io ve lo consiglio tantissimo è un gioco bellissimo tutti quelli a cui l'ho fatto provare sono rimasti molto contenti hanno detto cazzo devono fare subito un'altra partita è veramente bello la componentistica è carina non si sono sprecati bisogna un pochettino viaggiare con la fantasia però il suo bello è bello è molto bella i segnalini dei personaggi sono dei classici segnalini di legnetto potevano essere degli esploratori giusto per essere così per dargli una scena ancora migliore le carte sono tutte molto belle molto chiare le regole come vedete ve lo spiegate in tre minuti si complicano un po' perché ci sono anche delle cose particolari legate all'equipaggiamento scudi contro il sole insomma determinate cosine che non sto a spiegarvi però è assolutamente divertente giocateci perché è veramente veramente carino bello bello ciao